Ciao, oggi torno con un nuovo video di Zumba, quindi mi piace iniziare il 2015 con il fitness e quindi con un po' di movimento e spero di farvi venire voglia di ballare insieme a me. Quindi ho scelto una coreografia molto in tema Zumba e quindi inizio subito dalla spiegazione dei passi. Buon divertimento! All'inizio inizieremo molto semplicemente facendo una specie di riscaldamento, quindi metteremo le mani dietro la schiena e dopo aver battuto il piede per terra un paio di volte, tre volte, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, poi si sente dalla musica, inizieremo facendo dei saltini a destra e a sinistra, iniziando quindi verso destra e quindi faremo così, così, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, così insomma e poi insomma basta seguire il ritmo della musica. La coreografia sarà molto saltata, quindi poi metteremo le mani sui fianchi e faremo così, 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 quindi con il piede, quindi punta, tacco, punta, tacco e poi batteremo la punta due volte, quindi una cosa del genere, saltando contemporaneamente con la gamba sinistra, quindi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e poi naturalmente si farà anche a sinistra. e poi andremo verso destra e faremo 1, quindi andremo verso destra con il piede sinistro, quindi così e poi andremo dietro sempre con il piede sinistro, quindi così, 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 muovendo anche le mani, quindi 1, 2, così, per tre volte e poi faremo così, e lo stesso a sinistra e a sinistra andremo con il piede destro, così, 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 quindi avanti dietro, avanti dietro e poi faremo così, poi andremo verso destra facendo un movimento di questo genere, quindi iniziamo spingendo il piede destro, è difficile da spiegare, è molto più semplice farlo, così, così, insomma salteremo verso destra e verso sinistra, cercate di capirmi, bisogna portare il bacino un pochino avanti, quindi darsi la spinta un po' con il bacino, chiaro no? Poi, mani ai fianchi, inizieremo ad oscillare con le gambe, naturalmente tenendo gli addominali stretti, quindi 1, 2 e staremo su altezzo due tempi, quindi poi sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, destro e poi sinistro, quindi glutei e addominali stretti. Poi faremo il movimento di prima, però alternato, quindi quello che prima facevamo così, lo faremo alternato, quindi semplice, quindi destra, sinistra, destra e sinistra, senza farlo due volte nello stesso lato e quindi poi si ripetono questi passi, quindi come vedete è semplice, però è bella movimentata, quindi insomma si consuma qualche fettina di panettone, quindi direi di iniziare con la musica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.